Approvato dall'Aula il piano per l'invecchiamento attivo Nuova legge per tatuaggi e piercing Ricevuta a Palazzo Lascaris una delegazione ministeriale del Congo Nuova edizione di Consiglio News ben trovati Via libera all'unanimità da parte dell'Assemblea legislativa al piano per l'invecchiamento attivo All'unanimità dei votanti l'Assemblea regionale ha approvato la proposta di deliberazione sul piano per l'invecchiamento attivo Previsto dalla legge regionale 17 del 2019 per gli anni 2022-2025 Il provvedimento basandosi sulle linee guida dell'OMS ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Maurizio Marrone Presentandolo in Aula per la Giunta Mira a prevenire la degenerazione fisica e psichica delle persone anziane Attraverso il miglioramento della qualità della vita e l'incremento delle competenze In numerosi ambiti che vanno dall'educazione finanziaria al welfare senza dimenticare l'aggiornamento tecnologico L'educazione finanziaria per prevenire le truffe, l'aggiornamento informatico per evitare l'esclusione da tutti gli strumenti attivabili con le nuove tecnologie Per esempio anche di welfare e di rapporti con la pubblica amministrazione La vita indipendente e la sicurezza, la vivibilità dei centri urbani e la mobilità autonoma con servizi accessibili e adeguati E anche l'accesso e la fruizione culturale Nel corso del dibattito sono intervenuti Paolo Ruzzo, la Forza Italia, Alessandro Stecco, Lega, Silvio Magliano, Moderati e Domenico Rossi, Partito Democratico Questo piano è figlio di una legge regionale approvata alla fine della scorsa legislatura Io sono stato tra i primi firmatari di questa legge Una legge importante perché noi abbiamo una popolazione che invecchia Noi a questo dobbiamo prepararci per evitare che quello che è un aspetto positivo di questa fase storica Cioè le persone vivono di più, si trasforma in un elemento di criticità per la società Unanimità anche per la nuova legge riguardante tatuaggi e piercing Sanziati 50.000 euro per il tatuaggio medico post-operatorio Le donne operate al seno in seguito a un tumore potranno fruire gratuitamente presso le strutture sanitarie regionali Di un tatuaggio medico per la ricostruzione dell'area o la mammaria Questa è la principale novità stabilita dalla legge disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing Presentata da Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle E sottoscritta da altri consiglieri di maggioranza e opposizione Che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale Dopo un lungo percorso di confronto con gli operatori del settore Svolto dalla Commissione Sanità È un testo che prevede appunto la regolamentazione del settore di tatuaggio e piercing Quindi fornendo un corso di formazione obbligatorio per chi intende intraprendere questa attività Ma soprattutto prevede i contributi per l'esecuzione del tatuaggio Per pigmentazione del complesso areola capezzolo Per le persone operate di tumore alla mammella Come previsto tra l'altro dai livelli essenziali di assistenza a livello nazionale Un apposito regolamento redatto dalla Giunta regionale entro sei mesi Stabilirà le modalità di attuazione della nuova norma Ma che prevede anche regole precise sul percorso di formazione degli operatori Che realizzano i tatuaggi Sulle regole igieniche da rispettare nei locali adibiti a questa attività E anche sanzioni per chi non le rispetta È un riconoscimento della professionalità e della competenza Di chi svolge questa attività di tatuaggio e di piercing E nello stesso tempo la Regione dà un segnale Perché vuole proteggere la salute delle persone Che si sottopongono a queste pratiche Per le quali devono essere previsti dei requisiti Ed essere eseguite nel rispetto della normativa igienico-sanitaria Logo Fincommission senza mole L'assessore Vittoria Poggio ha risposto Un'interrogazione di Raffaele Gallo, Partito Democratico La Regione Piemonte ritiene opportuna La scelta della Fincommission Torino-Piemonte Di eliminare dal proprio logo istituzionale La mole antonelliana Simbolo celebre e indiscusso del capoluogo piemontese in tutto il mondo E questo l'interrogativo che il capogruppo PD Raffaele Gallo Ha rivolto in aula nell'ambito dei Question Time All'assessore alla cultura Vittoria Poggio L'immagine attualmente in uso sui profili social della fondazione Non è un nuovo logo sostitutivo di quello storico istituzionale Ha puntualizzato Poggio leggendo una nota della Fincommission Ma un restyling elaborato per ottimizzare l'utilizzo del logo In contesti digitali e comunicativi In questa versione ha poi aggiunto l'assessore La stella della mole diventa rappresentativa del legame tra territorio e cinema Esaltando non solo la storia cinematografica di Torino e del Piemonte Ma anche il legame con il Museo Nazionale del Cinema Il Torino Film Festival e il premio stella della mole L'aula consigliare ha ricordato con un minuto di silenzio Matteo Viglietta e Gianfranco Bellingeri Scomparso il 22 novembre 2020 all'età di 79 anni Ha ricordato il presidente Stefano Allasia Matteo Viglietta è stato assessore e consigliere regionale Nella sesta legislatura Negli anni 90 era stato un importante esponente di Forza Italia Di cui fu coordinatore provinciale L'assemblea regionale ha commemorato anche Gianfranco Bellingeri Scomparso il 29 gennaio 2022 all'età di 86 anni Assessore e consigliere regionale nella sesta legislatura Negli anni 90 ricoprì la carica di segretario della Lega Nord di Tortona Ricevuta a Palazzo Lascari Su una delegazione ministeriale del Congo I vicepresidenti del Comitato regionale per i diritti umani e civili Sara Zambai e Giampiero Leo Hanno ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione di rappresentanti Del Ministero dell'Industria della Repubblica Democratica del Congo La missione della delegazione che si è trattenuta in Italia per alcuni giorni È stata quella di intrattenere incontri con rappresentanti istituzionali E delle categorie economiche per promuovere opportunità di investimento Da parte degli enti e degli imprenditori italiani nell'industria congolese Il loro messaggio è un messaggio di promozione del loro territorio Ci hanno giustamente raccontato quanto la Repubblica Democratica del Congo È uno degli stati che probabilmente all'interno dell'Africa Può veramente dare più opportunità alla propria popolazione Il capo di gabinetto ha illustrato le ricchezze del Congo Come le numerose materie prime agricole, minerarie E i progetti che il Ministero dell'Industria desidera sviluppare Dal potenziamento delle infrastrutture Alle produzioni industriali finalizzate alla transizione ecologica Abbiamo cercato di far capire agli imprenditori quante opportunità ci sono Nella Repubblica Democratica del Congo Nelle infrastrutture, nelle centrali idroelettriche, le strade Le tante possibilità che stanno nascendo in Congo È attiva DigiCore, app per segnalare le violazioni dei diritti dei minori Il progetto è realizzato dall'Università di Torino In partnership con il Consiglio regionale I ragazzi e le ragazze piemontesi hanno a disposizione uno strumento agile e immediato Per segnalare al garante per l'infanzia e l'adolescenza Episodi di violazione dei loro diritti È la app DigiCore Progetto che parte da un lato dall'importanza delle segnalazioni E dall'altro però dalla constatazione che le segnalazioni da parte di persone di minore età Sono sempre state veramente molto poche Nessuna fino al 2019 e una o due negli anni successivi Già disponibile in tutti i principali store L'app è frutto del progetto Children DigiCore Finanziato dalla Commissione Europea È realizzato dall'Università di Torino In partnership con il Consiglio regionale del Piemonte L'associazione Agevolando, la Digital Experience Company Sinestesia E l'organizzazione non governativa cipriota Hope for Children La caratteristica principale di questa app è quella di essere stata elaborata Ascoltando, dando parola ai ragazzi e alle ragazze Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti